Mi ha colpito tanto è questo, di vedere Cristo a braccia aperte per me. E questo è il suo amore che proprio sento che lo ha voluto imprimere anche in me, no? E che io sono chiamato a portare questo stesso amore, questa misericordia a tutti. Allora mi sono abbandonato nelle braccia di Cristo. Mi ha colpito molto una cosa, prima di tutto, che lui ha voluto incontrarci prima nella Sacrestia, a noi ordinandi, che è stato un grandissimo onore, è stata una cosa molto intima. Ci ha raccomandato di amare molto alla Vergine Maria, di tenerla sempre con noi come mamma. E poi una cosa che durante l'Omelia mi ha colpito molto, che lui ha parlato tanto della Chiesa. Cioè che noi siamo per il servizio della Chiesa e con la Chiesa. E questa è una cosa che per me è un aiuto grande, perché non siamo soli, siamo pastori di un greggio, no? Quindi il greggio è parte di tutto questo.